Prunella Teatro, quarta serata, quarta serata qui a Prunella, questa sera in scena Teatro L'Aquila, accanto a me abbiamo il nostro buon Dario, buonasera Dario Buonasera Pippo, buonasera Ma sei tu? Eh sono io, non mi vedi che sono io Pippo, eh che fai, ti confondi? No, 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 sono cresciuti i capelli Hai visto, hai notato? Hai notato? Ho notato, ho notato, ho notato bene Mi stanno bene, mi stanno bene, è vero? Per quelli che ti conoscono Dario così, senza capelli, adesso questa sera voglio dire Sono Lillo, sono Lion ma tutti mi chiamano Lion ma tutti ti chiamano Lillo Allora Dario, parliamo un attimino, adesso dobbiamo parlare della tua capegliatura, insomma, è bellissima Allora, questa serata, in questa commedia tu due parti, il dottore è Lion È Lion Sì, hai visto il cambio di scena, hai notato? È bello, il cambio di scena Senti, Lion, perché è Lion? Lion In questa commedia, c'è Lion che parte? Lion è l'amico dei figli della padrona di casa, quindi l'amico del protagonista Arturo e della sorella Carolina Che, dato che è bravo in inglese, gli aiuta nelle studi e nelle cose Ma è amico poi con tutti, anche con la nonna, come avete potuto vedere E alla fine è amato da tutti È amato da tutti No, no, bellissima Poi la parte del dottore, insomma, l'apparicchietto alla nonnina Sì, poi cambia, vabbè, quella è una parte aggiunta Mi è venuta dopo, vari motivi Ha spiegato a Mariolina che questa era una commedia fatta per il laboratorio Quindi è una particina piccolina Ok, la faccio io Comunque non sapevamo che eri anche laureato in medicina Guarda, l'ho presa la laurea stamattina, guarda Sei arrivata Mariolina, guarda, ti dovi la laurea È 80, è 80, 90, non so, adesso la laurea Però va bene, sono laureato in medicina Comunque, Dani, questa è la prima, buona comunque Un bel successo, tanta gente questa sera C'è stato il pienone, siamo contenti di che c'è stato il pienone Anche se era, oggi che è giorno, è giovedì Oggi è giovedì, infrasettimanale C'è stato un pienone, siamo stati contenti Anche il pubblico è stato caloroso con gli applausi C'è stato anche lui la carica Quindi sabato nell'altra commedia ti vedremo recitare ancora Sì, se mi riconosci anche là vi vedrai Altro trucco Altro trucco, altro inganno Va bene, ti ringrazio Dario, devi scappare Ciao a tutti